Bentornati in Upgrape, sono Giuseppe Cacucci, agronomo e imprenditore agricolo che lavora nella filiera dell'uva da tavola. Mi trovo in un campo di barbatelle che verranno innestate a breve. Queste piante sono state trapiantate con l'aiuto di un escavatorino. Nel video che vedete le radici non sono state completamente tagliate, ma hanno una lunghezza di circa 15 centimetri. Dopo che l'escavatore ha scavato la buca, le piante vengono adagiate e subito dopo ricoperte con lo stesso terreno. L'operazione è veloce, infatti ci sono due operai semplici che seguono il lavoro della macchina. Il terreno deve essere opportunamente lavorato per consentire alla macchina di procedere e lavorare adeguatamente. Quali sono i vantaggi di questa tipologia di trapianto? Utilizzando piante con radici quasi intatte, con una lunghezza di circa 10-15 centimetri, è logico che faranno meno fatica ad attecchire, quindi avremo una risposta vegetativa più veloce e anche il loro sviluppo. Questo tipo di trapianto non richiede una manualità specializzata, ma un operario semplice che inserisce o adagia la pianta nella buca. I costi per questo tipo di operazione sono inferiori, è un lavoro semi-meccanizzato e è logico che sia più veloce. Quali sono le criticità per questa tipologia di trapianto? Innanzitutto nell'allineamento. Non si ottiene lo stesso allineamento che si otterrebbe trapiantando le barbatelle a mano con il metodo della forchetta. Altro aspetto è la piovosità. Se dovessimo avere una pioggia all'escavatorino farebbe fatica a svolgere il lavoro che avete visto in video. In questa tipologia di trapianto non utilizziamo il getto d'acqua e quindi c'è la possibilità che si formino delle sacche d'aria o bolle d'aria che possono provocare danni. Ultimo aspetto riguarda la crescita radicale. Nel prossimo video metteremo a confronto le due tipologie di trapianto parlando proprio di questo aspetto. Continuate a seguirmi, alla prossima!